Siete una torrefazione storica di Milano che ha deciso di affiancare al business tradizionale un piano di sviluppo retail. Potete raccontarci la vostra storia? Sì, Ottolina Caffè è una torrefazione di Milano, è stata fondata nel 1948, quindi quest'anno sono 70 anni di torrefazione. È una family company e adesso siamo alla terza generazione, quindi sono i nipoti del fondatore, i due figli dell'attuale cavaliere Ottolina che adesso prenderanno in mano l'azienda. A Milano noi abbiamo più di 800 clienti nel settore Oreca, a Milano è zona limitrofe Nord Italia. Abbiamo anche dei distributori all'estero, nel nord Europa e anche una joint venture in Cina. Su quale mercato vi state espandendo? Che sogni di sviluppo avete nel cassetto? Allora, ovviamente il sogno nel cassetto è quello di espandersi negli Stati Uniti perché è un mercato che fa gola a tutti. Al momento io sono qui giusto per dare un'occhiata e vedere se è possibile per noi trovare un partner con la stessa passione per la qualità che abbiamo noi. Grazie. 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 Grazie.